E' passato un anno dalla scomparsa di Matteo Pess, il 28enne aretino morto mentre stava scalando il Monte Cervino con un amico. Il suo ricordo è rimasto vivo in città e da lui è stato dedicato un nuovo evento podistico, la Pess Run, fortissimamente voluta dai suoi amici che hanno subito trovato la collaborazione dell'Unione Polisportiva Polciana, del Comune di Arezzo e del CSI. Dopo la commemorazione di Matteo e il rigoroso minuto di silenzio, il via alle 20.45 di lunedì scorso da Piazza Grande. Oltre a 350 gli atleti tra competitivi e non che hanno dato vita ad un grandissimo spettacolo di partecipazione nei vicoli stretti del centro storico di Arezzo. Vittoria nel maschile per Mezzetti, riuscito a contenere il ritorno di Annetti, giunto secondo, terza piazza per Nucera. Anche in campo femminile Caterina Betti ha mantenuto la testa della corsa andando a vincere su Genziana Cenni e Nicoletta Sanarelli.